2 linee fermine, 25 secondi e gara 6 a concludere, poi aprirete per l'ultima batteria di questa gara 20 giri per voglia premiazioni F3, F2, F1 e F2, a termina premiazioni di gara 3 e gara 4 Ecco questo è il titolo della campana Mi raccomando la volata al centro della strada Gatto! 80 partecipanti, 25 in questo ultimo giro La volata al centro della strada Ultimo giro, ultimo giro, volata al centro della strada Ultimo giro, ultimo giro, ultimo giro Ultimo giro, mi raccomando la volata al centro della strada Ultimo giro Infettiamo Andrea Rigoni del Team Fluggers Un po' i nostri rivali del Team Logan Millennium Siamo un po' le due squadre che noi facciamo Anno più tesserati Però è bello questa faccia che ci lega E questa collaborazione che fa l'inversione Un po' i nostri rivali del Team Logan Millennium Siamo un po' le due squadre che noi facciamo Anno più tesserati